A Gaggio Montano in provincia di Bologna si terrà la prima prova del campionato italiano di regolarità gruppo 5 con la partecipazione di ben 380 piloti. Sarà un evento emozionante. Vi lascio con le immagini della prova cross test vista dal drone che sarà effettuata tre volte nel corso della giornata. Vi aspetto tutti a Gaggio Montano. Non mancate! A Gaggio Montano A Gaggio Montano A Gaggio Montano A Gaggio Montano